Un nuovo incubatore per i futuri direttori generali della sanità. È questo l'obiettivo della prima edizione del Manageria Scola Summer Camp che si svolgerà il 15, 16 e 17 settembre al Centro Studi Achille Linda Lorenzon a Treviso. A promuoverlo l'Alta Scuola d'Economia e Management dei Sistemi Sanitari Facoltà d'Economia nel Campus di Roma dell'Università Cattolica. Nella tre giorni di lavori i partecipanti a Summer Camp saranno coinvolti in giochi di ruolo, drammatizzazioni e tavole rotonde tematiche allo scopo di acquisire e consolidare le competenze manageriali per ricoprire con successo ruoli nel top management della sanità. La formula ideata per il Summer Camp prevede il coinvolgimento attivo di esperti in carica nei ruoli di vertici del management sanitario che grazie a tecniche formative basate sull'interazione trasferiranno i trucchi del mestiere condividendo strategie e criticità affrontate nel corso della loro carriera a chi in futuro ricoprirà gli stessi incarichi. Accanto a loro parteciperanno alla tre giorni gli allunni del Master Altems in Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari, il percorso formativo dedicato a chi desidera acquisire il titolo per l'iscrizione all'albo dei direttori generali.